ah non vedo l'ora non riesco a stare ferma presto dai e se no finalmente la posta volantini bollette eccola sono stata ammessa all'università evviva lo so devo fare le valigie per la scuola dove mettere tutto questo non è adatto per l'università o cosa abbiamo qui nemmeno queste scarpe vanno bene non ho vestiti o quaderni devo andare a fare shopping ciao devo prepararmi per l'anno scolastico buongiorno ti mostrerò cosa abbiamo abbiamo tutto ciò di cui hai bisogno ecco la sezione abbigliamento scegli pure cotone elastane e velluto a coste prendo tutto proprio quello di cui avevo bisogno non dimenticare le scarpe wow quante tra cui scegliere prendo queste e queste e queste quanto pesano e non ho ancora finito ti aiuto libri di testo quaderni una calcolatrice e hai sicuramente bisogno di un mappamondo di uno grande e avrai bisogno anche di un portatile oh me ne serve uno rosa eccone uno bianco uno argento ed eccone uno rosa e ti serviranno anche una valigia e una borsa è tutto così pesante valigia borsa sono duecento monete pago in contanti grazie ciao ciao barbie oh sono così stanca studiare è impegnativo grazie grazie grazie